Qua si muove tutto, guarda per te, tutto in movimento. Allora. Bellissimo dibattito. Allora, intanto Massimo Gramellini c'era una volta adesso, un libro che... Mi avete rassicurato, posso dire? Ti senti più tranquillo? Sono più sereno. Sei pronto ad AstraZeneca? Ho sentito delle persone intelligenti dire delle cose intelligenti, anche diverse. Beh, qui non si gioca... O se è sempre così... Bisogna cercare di non giocare con le parole, diciamo, perché domani vediamo davvero il comportamento delle persone, quante si presenteranno all'appuntamento della AstraZeneca. Sì, ma come diceva Paolo, domani non farà testo, perché la prima reazione sarà ancora di chiusura. Poi, fra qualche giorno... Il tuo cugino c'è andato, il tuo amico c'è andato... Possiamo ricordare quella straordinaria donna che ha perso il marito, Clarinettista, Biella, e che poche ore dopo l'aborto del marito, quando ancora non sapevamo se era morto per causa del vaccino oppure no, ha detto, io mi vaccinerò lo stesso, mio marito avrebbe fatto anche la seconda dose, noi crediamo nella scienza, non esiste il rischio zero e nulla nella vita. Dire una cosa del genere, quando hai appena perso la persona più cara che hai, ha un valore, secondo me, di una potenza... Enorme, enorme. Senti Massimo, tu hai scritto, c'era una volta adesso con Longanesi, che è il racconto della pandemia di un uomo nel 2080 che è stato bambino in questi anni e che ha vissuto dentro una famiglia, dentro una casa, la pandemia. Oggi è il giorno della memoria, diciamo, di questi 104.000 morti. Allora, io vorrei cominciare da un dato, che è quello sulle scuole, va bene? Le scuole in Europa. Allora, giorni di chiusura delle scuole tra totale e parziale. In Italia 123 giorni di chiusura, in Regno Unito 102, Germania 92, Spagna 75, Francia 43. Pensate che la Francia sta entrando di nuovo in un lockdown, perché ha tantissimi contagi, siamo oltre 35.000, ma le scuole rimangono aperte. Tu hai un bimbo di nove anni, tra l'altro, giusto? Casa, sì. È un bimbo di mia moglie, ma è come se fosse... Questi dati che effetto ti fanno? È un anno che i bambini in Italia sono stati aboliti fin dal primo decreto, dal primo di PCM abbiamo smesso di parlare di bambini e di adolescenti. Sono, insieme agli anziani, di cui abbiamo parlato giustamente sempre molto, sono stati grandi dimenticati di questo anno. Cioè, l'emergenza, l'effetto che può aver avuto... Hai parlato fino ad adesso di effetti collaterali del vaccino, ma vogliamo parlare degli effetti collaterali della clausura, del lockdown? Pensiamo non soltanto ai bambini, che come tu sai, i bambini sono felici di stare in casa con i genitori, magari i genitori ogni tanto un po' meno, ma gli adolescenti invece sono felici di stare fuori dalle scatole, di potersi divertire o di poter studiare, ma fuori dalla famiglia. E invece li abbiamo tenuti chiusi in casa per tutto l'anno. Ecco, ma chi ha sbagliato di più, secondo te? Cioè, tra l'altro, le dimissioni abbastanza clamorose, anche se tenute un po' sotto silenzio del coordinatore CTS Agostino Miozzo, che è uno che davvero quasi tutte le settimane faceva un'intervista fortissima, dicendo che era un errore clamoroso tenere chiuse le scuole, e lo diceva dall'interno del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, se n'è andato, adesso è andato a lavorare col Ministro dell'Istruzione Bianchi. Chi ha sbagliato di più in queste circostanze? Io penso che se tu decidi che una cosa bisogna farla a tutti i costi, la maniera per farla la fai. Per cui se si fosse deciso, non diciamo subito a marzo, ma durante l'estate, anziché parlare di banchi a rotelle, avessimo parlato di trasporti. Perché il problema principale della scuola, così mi ha spiegato una volta la professoressa Viola, ma non solo lei, e il tema fondamentale è che la scuola muove una quantità di persone enorme, pensiamo a chi ti accompagna a scuola, il nonno che va a prendere il nipotino, la mamma, il papà. Quindi c'è un grande movimento. Se noi avessimo fatto una vera politica di trasporti seria, organizzando veramente una cosa unica, come si fa nelle emergenze, giustamente, ma avendo quell'obiettivo, io voglio portare in sicurezza i ragazzi a scuola. Perché io credo che sia stato quello il problema principale del rischio contagio, l'assembramento fuori dalle scuole. Andava organizzato il trasporto, ma bisognava farlo, bisognava crederci nella scuola, bisognava pensare che la scuola è la prima emergenza, la priorità delle priorità, conta più di ogni altra cosa. Io mi chiedo quanti di noi hanno ben presente questa visione del futuro? Cioè che questi adolescenti che hanno perso un anno non lo recuperano perché i 16 anni li hai una volta sola nella vita. E questi ragazzi, questo bambino a cui tu dedichi il tuo libro, Mattia, è chiamato così perché è come il paziente zero. Certo, certo, come di Codogno. Mattia Maestri, appunto. È, diciamo, al centro di un gigantesco esperimento sociale, no? Questo è il punto. Cioè, e anche la famiglia si rivela per quello che è, insomma, no? Perché la famiglia cambia anche lei, no? Io nel romanzo ho raccontato una famiglia che ovviamente in cui poi mi fa piacere perché vedo dalle reazioni dei lettori che si sono riconosciuti. Perché è stato un esperimento sociale per tutti noi. Abbiamo costretto delle persone a vivere insieme, anche persone che magari formalmente vivono insieme. Ma in realtà c'erano anche dei patti di non belligeranza. Pensiamo a quelle famiglie in cui magari fra i genitori non c'è più un legame vero, ma rimangono insieme per i figli, ognuno c'è la sua vita. Lì abbiamo costretto di nuovo le persone a chiudersi, a guardarsi in faccia l'un l'altro, a guardare anche se stessi allo specchio. Ed è stata, io credo, una grande occasione per alcuni per cambiare in meglio, per altri, e abbiamo visto anche dagli effetti sui divorzi, ci sono state anche... Le esplosioni delle famiglie, in qualche maniera. È normale. Senti, perché in Italia abbiamo avuto quasi 104.000 morti di cui non ci ricordiamo i nomi e i cognomi? Spesso ci stufiamo quasi di ricordarli questi nomi e i cognomi, invece i nomi e i cognomi di quelli che dopo il vaccino hanno avuto un problema li conosciamo benissimo. Abbiamo spostato subito l'attenzione sul particolare, abbiamo perso il generale. È normale? È una reazione umana? Secondo me sì, l'avete già parlato anche prima. Secondo me c'è proprio una nostra... Abbiamo delle emozioni selettive, no? Andiamo a concentrarci su quello che in quel momento ci fa più paura. Sai che cosa è, Corrado? Io credo che non siamo più abituati ad avere delle emozioni che durino nel tempo. Noi siamo stati abituati in questi ultimi vent'anni a un'informazione, ad eventi shock, l'attentato... Dio, la parola shock, vorrei pronunciarla e viene quasi a dire shock. Voto di Renzi, Zoom. Because, però shock perché? Perché effettivamente tu pensi a un attentato terroristico, per tre giorni non parli d'altro, edizioni speciali, 20 pagine sui giornali, poi dal quarto giorno non se ne parla più. Questa emergenza invece è lenta, è lunga, è noiosa, non è più un'emozione, è un sentimento, è qualcosa che dura nel tempo. E noi eravamo più abituati a gestire una cosa di questo genere. Forse non l'abbiamo mai vissuta nella nostra vita. Io parlo per me. Non mi era mai successo di dover fare i conti con una cosa che dura. E ogni giorno diciamo, ma sarà l'ultimo, no? È finita. E non finisce mai. E adesso siamo obiettivamente anche molto piegati dal punto di vista psicologico, oltre che sanitario. Senti, io insomma, il mio piccolo osservatorio, che è la mia famiglia, ho tre figli di età diverse, la più grande ha 20 anni, e la mia idea... Lei come la prende? Appunto, no? Cioè, io, a parte che vedo una notevole responsabilità, responsabilità nei comportamenti. Vabbè, i bambini piccoli sono dei militari, ormai parlano di tamponi, di mascherine, e li indossano, e li ripiegano con una maestria straordinaria. Sono veramente disciplinati, no? Che vuol dire che a scuola imparano bene, cioè che la scuola è molto organizzata. e spezzo una lancia a favore delle scuole. Io non credo che dentro le scuole il contagio sia praticamente forte. Come dicevi tu, sono i trasporti il problema. Ma il tema è che io sono pronto a scommettere che i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, magari senza dirlo, senza dichiararlo, senza darlo troppo a vedere, usciranno migliori da questa esperienza. Cioè, con l'idea che anche se a te questa cosa... Il Covid non ti fa niente, perché un ragazzo di 20 anni probabilmente non fa niente, ne usciamo solo tutti assieme e dobbiamo proteggerci l'uno con l'altro e una tua trascuratezza può uccidere qualcun altro, no? Tuo nonno, una persona più anziana o più fragile. Tu non pensi che alla fine nei ragazzi questo senso di collettività, di responsabilità collettiva rimarrà e che la generazione dei ragazzi potrà uscire migliore di quello che era? Facendo dei paragoni che sono abnormi, mi ne rendo conto, ma è l'unico che abbiamo come referente, la generazione della guerra. Anche lì, la guerra è stata un'opportunità per qualcuno per devastarsi anche a livello psicologico, per altri invece, come dici tu, per assumere responsabilità e sicurezza. Può darsi quindi che molti di questi ragazzi ne escano rafforzati. Sai, tu dicevi solidarietà, io l'allargherai ancora di più perché io sento, per esempio, degli adolescenti fare discorsi che non sento tanto fare dagli adulti e dagli anziani e cioè dobbiamo vaccinare tutto il mondo. non basta vaccinarci tutti noi italiani perché il vaccino non ha i confini, non è che c'è una porta dove... E se non si vaccinano tutti dovremmo tirare i suoi muri davvero. Quindi il problema è che dobbiamo anche mettere il vaccino a disposizione di chi magari non si può permettere. Questa sera non se ne è parlato ma questi vaccini hanno anche dei costi tra l'altro alcuni più alti altri meno alti insomma c'è tutta una cosa è importante anche questo aspetto che adesso non ci interessa. Che gli altri paesi li utilizzino e si vaccinano tutti per evitare che poi dovremmo chiudere le frontiere. Altrimenti tra sei mesi siamo di nuovo da capo noi siamo vaccinati ma adesso... E vivremo come fortapascia il problema è questo. Ci vediamo tra...